Noi affronteremo questa mattina un'analisi, per quanto è possibile, dignitosa, anche se non riusciamo ad avere sotto mano tutti i testi paralleli come il Vangelo di Pietro e altri Vangeli apocrifi, con cui poter fare dei paragoni, anche se manca questo, riusciremo a fare lo stesso, una lettura seria. Scordiamoci quando voi dite cosa andiamo a fare alla domenica seconda di ogni mese, non dite che venite a fare esegesi. Veniamo a fare una lettura che pizzica qua e là alcuni problemi e cerca di affrontarli. Seconda cosa che dobbiamo tenere presente, mentre la volta scorsa quando abbiamo toccato il testo del Vangelo di Marco, noi abbiamo toccato un testo arcaico, molto primitivo. Qui invece tocchiamo un testo che è già stato ripensato, elaborato in funzione di che cosa? In funzione di una polemica. Il nostro testo, quello di Matteo, è un testo polemico. Polemico non significa arrabbiato, significa che sta facendo un polemos, un combattimento nei confronti degli ebrei che verso gli anni 80-85 avevano preso una posizione durissima nei confronti degli ebreo cristiani. Noi sappiamo che il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebreo cristiani. E questi ebreo cristiani ritenevano di essere la parte migliore di Israele. Se non che dopo il 70, con la distruzione della città e distruzione del Tempio, noi abbiamo da parte degli ebrei una specie di ripensamento generale, non della propria fede, ma della propria religione, cioè di tutte quelle manifestazioni che la fede comporta. Non avendo più il Tempio, hanno dovuto ritoccare e rivedere molte cose. Prima di tutto, ovviamente, il culto. E nel culto hanno voluto mettere delle leggi durissime. Chi è ebreo partecipa, chi non è ebreo non partecipa. E hanno giudicato i nazareni, i seguaci di Gesù di Nazareth, come non ebrei. e dunque li hanno cacciati dalla sinagoga. Hanno proibito loro di entrare a pregare nella sinagoga. Questo è un fatto molto duro. Se voi prendete gli atti degli apostoli, ve li leggete tutti quanti, vi accorgete di un dato molto interessante. Che Paolo, quando fa i suoi viaggi, la prima cosa che fa, va nella sinagoga a parlare di Gesù. Naturalmente, i viaggi di Paolo avvengono vent'anni prima abbondanti, tra il 48, 49 e il 60. Qui siamo già verso l'85. Dunque, a Yamnia, questo grande scuola di rabbini, lì si elabora una serie di strategie da parte degli ebrei per riformare la manifestazione cultica della fede di Israele. Ci sono anche nuovi precetti, nuove disposizioni. Fra queste, ricordatevi, che c'è la espulsione anche di una Bibbia. Gli ebrei alessandrini, tra il III e il I secolo a.C., avevano tradotto dall'ebraico e dall'aramaico in greco tutto l'Antico Testamento. E questi traduttori ebrei avevano esplicitato certi brani scritti in ebraico, non molto chiaramente. Nella traduzione, invece, i traduttori avevano esplicitato il significato messianico. Per cui i cristiani avevano adottato questo testo. E quando discutevano con gli ebrei, discutevano con questo testo. E siccome questo testo dava ragione ai cristiani, gli ebrei lo hanno espulso dalla lettura sinagogale. Fino ad oggi. Adesso state attenti, quando io dico, fino ad oggi, che cosa si sottintende? Che tutti quanti potete constatarlo. Cioè, è un fatto alla portata della verifica di chiunque. Chiaro? Tenetelo presente perché questa espressione la troveremo. Questo è il clima. Naturalmente è un clima dove il mondo ebraico e il mondo cristiano si sono separati perché gli ebrei non hanno più voluto avere niente a che fare con i cristiani. Tenete poi presente che sempre in questo periodo avviene una terza cosa. Naturalmente, quando questo rabbinato di Amnia riforma l'ebraismo, dice anche quali siano le preghiere del mattino e della sera. E nelle preghiere vengono introdotte le diciotto benedizioni. In una di queste, l'ebreo ringrazia di non essere, purtroppo, donna, e di non essere come i minim. Gli ebrei allora chiamavano così i cristiani. Minim, nell'ebraico tardivo, significa superbo. E loro ci chiamavano così. Adesso dicono, no, noi intendevamo dire tutti i superbi. No, no, no. Non si imbarca Cuchi. Nasce dunque questa spaccatura. Gli cristiani prendono coscienza di essere chiesa e c'è una risposta tremendamente seria. Polemica dunque in questo senso. Noi troviamo non solo abbondanti tracce, ma troviamo alcuni frammenti polemici nel nostro testo. Ecco, tenuto presente questi elementi, noi possiamo oggi leggere questo capitolo 28 di Matteo, il quale ha più problemi che non parole. tanto per capirci. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed eccovi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore infatti scese dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne, voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto infatti come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli. È risorto dai morti ed eccovi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse, salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo, dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Vi è chiaro? Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Basta? Tutto liscio? Tutto chiaro? Forse. Forse. Vediamo che ci attiviamo fuori dalla pancia. Allora, la prima cosa da dire è che questo testo che abbiamo letto incrocia, innesta uno nell'altro due tipi di narrazione. Una è una narrazione storico-teologica e l'altra è una narrazione apocalittica. Io so che per i più vecchi la parola apocalittica non nasconde niente. I più vecchi di frequentazione, non di età. Mentre i più giovani di frequentazione, di fronte alla parola apocalittica è una parola apocalittica o apocalisse, viene in mente il film di Coppola Apocalypse Now. Per i miei amici più giovani di frequentazione, l'apocalittica è una corrente di pensiero e una corrente letteraria che si sviluppa nel mondo ebraico dal secondo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo, 400 anni. Il cristianesimo è incapsulato dentro a questo periodo perché i libri biblici vengono scritti dalla fonte cura, seconda lettera di Pietro tra il 50 e il 105 d.C. Siamo dentro al periodo apocalittico. Anche Gesù ha adoperato molte forme apocalittiche, soprattutto nel suo discorso escatologico. Il discorso escatologico significa il discorso che tratta della fine del mondo. Escaton vuol dire cosa ultima. Discorso escatologico è il discorso che parla della fine del mondo nel quale Gesù introduce la fine di Gerusalemme come anticipo visivo di ciò che capiterà poi alla fine del mondo a tutti quanti. La forma letteraria di questa corrente di pensiero era molto elaborata. Aveva determinati stilemi, cioè forme fisse. Per esempio una forma fissa era questa. Si presentava qualche cosa di enigmatico e poi si faceva intervenire l'angelo interprete. Questo angelo, soprattutto nell'apocalittica antica, era, scusate la battuta, un genere letterario. Cioè non esisteva. Era una forma per dire il veggente ha visto sta roba qua, adesso te la spiego. Invece di dire adesso te la spiego, si diceva un angelo disse. Allora certi biblisti protestanti che credono poco agli angeli, quando traducono il angelo di Luca, l'angelo appare a Maria e dice, Ave Maria, non temere, sono un genere letterario. Poi questa battuta viene attribuita agli esegeti cattolici. No, non è vero, noi non diciamo questo. Sono gli esegeti protestanti che fanno queste battute qua. Dunque l'angelo interprete e questo essere inizialmente solo letterario, invece nel caso nostro non è semplicemente un genere letterario. l'angelo ha questo compito, di chiarire ciò che è ambiguo. Una visione, un avvenimento, un sogno, una profezia che non è chiara, l'apocalittico prende piazza l'angelo il quale spiega. Voi penso abbiate letto qualche volta, parlo sempre dei giovani di frequentazione, abbiate letto qualche volta il libro di Daniele. Nel libro di Daniele si vede con chiarezza tutto questo. C'è il sogno o c'è la visione, poi c'è questo angelo che in maniera beffarda interroga i presenti, dice avete capito qualcosa? No, non abbiamo capito niente. Mo' ve lo spiego io. Noi troviamo questo angelo nel racconto, se avete visto. Questo angelo in anteprima chiarisce il significato del sepolcro, ma anche il significato delle parole di Gesù. Quindi voi avete il sepolcro, l'angelo, l'incontro con Gesù. L'angelo chiarisce il valore del sepolcro, ma chiarisce prima che Gesù le dica le stesse parole di Gesù. Se avete prestato attenzione, le parole di Gesù sono già contenute nel discorso dell'angelo. Poi c'è un altro elemento da tenere presente nella letteratura apocalittica. Ci sono tante cose da tenere presente, ma a me basta illustrarvene due questa mattina. Nell'apocalittica si cerca di spiegare le cose che avverranno alla fine del mondo attraverso fatti storici limitati nel tempo e nello spazio, cioè avvengono in un determinato luogo per un periodo molto breve. E l'apocalittico dice guardate bene quello che succede in questo episodio, moltiplicatelo per tutti gli uomini del mondo, questa sarà la fine del mondo. Chiaro? E' lo scherzetto che Gesù fa nel discorso escatologico. Quando lui annuncia la fine del mondo, a un certo momento dirà guardate Gerusalemme, verrà distrutta. Osservate bene come viene distrutta, perché in quell'episodio che avviene solo a Gerusalemme, circoscritto dunque nel tempo, circoscritto nello spazio, lì voi potrete vedere in miniatura riprodotto ciò che capiterà a tutti. Gli apocalittici avevano questo stile, guarda qui, guarda là, osserva questo, osserva quello, lì è contenuto qualche cosa che moltiplicato per tutti gli uomini avverrà quando la storia finirà. Matteo adopera lo stesso stile qui, quindi ci piazza l'angelo che spiega, ma questo è un angelo reale, poi vedremo il perché, e poi adopera questo concetto. Ciò che avviene qui serve a tutti. Questo è un fatto che ha colpito una realtà circoscritta, si chiama Gesù Cristo, è capitato a lui, ma in questo fatto noi vediamo ciò che capiterà a tutti quanti. Chiaro? Se voi tenete presente queste cosucce, l'atteggiamento polemico da una parte e queste caratteristiche della letteratura apocalittica dall'altra, e tenete presente che Matteo convergono, noi riusciamo ad avere già una buona chiave di lettura e di comprensione di questo testo. Il valore storico di questo testo. Il valore storico di questo testo è importantissimo ed è fondamentale. Noi siamo abituati a leggere i libri di storia moderni, i quali i libri di storia si avvalgono, non sempre, di una documentazione riletta in maniera severamente critica, quindi testimonianze orali, scritte, iscrizioni, monumenti, scavi archeologici e via di questo passo. Nel mondo antico le cose non erano così, ma non per questo erano meno severi. Tenete presente che oggi noi pensiamo che i nostri storici siano imparziali. Ma quando mai? Ma quando mai? Giardino zoologico, gabbia dei leoni, bambino scemo, ce ne sono tanti oggi. Ma non sono loro scemi. Forse scemo è qualcun altro. Si avvicina troppo alla gabbia e il leone, zack, con una zampata se lo prende e se lo porta dentro alla gabbia. tutta quanta la gente disperata, osserva, terrorizzata. Il leone invece sa che ha a che fare con un cuccioletto, quindi gioca. A un certo momento tra la folla si fa avanti un argomento grande e grosso. Entra dentro. Il leone resta tramortito. L'uomo prende il bambino, lo porta fuori. Osanna, felicità, applausi, giornalista, il quale accende il registratore e va da questo uomo, dice, da come veste si vede che lei è un operaio. Si, dice, io sono un operaio. Allora dice domani sull'unità metteremo la classe operaia salva la vita a un bambino. L'uomo guarda il giornalista storto e dice io non leggo l'unità. Dice ma lei è un operaio? Sì. E iscritto la CGL? No. Ma lei vota comunista? No. Che cosa vota? MSI. E sull'unità è uscito questo titolo. Sporco fascista ruba il cibo a povero immigrato africano. Guardate che molto spesso i nostri libri di storia sono questi. Non c'è peggior storico di colui che non dice espressamente qual è la sua professione politico-culturale. Per cui all'inizio di ogni libro di storia lo storico dovrebbe dire io sono uno storico liberale. E allora uno sa come ha impostato la sua storia. Popolo non vale niente, ciò che vale sono i grossi personaggi che guidano il popolo su con. Questa è la storia liberale detta in maniera volgare. Se invece lo storico è comunista, di formazione marxista, è chiaro che non avrà questa impostazione. La sua impostazione sarà sempre, solo e unicamente conflittuale tra classe dominante e classi subalterne e la storia sarà la curiosità del quotidiano. Per cui oggi i ragazzi non sanno più collocare un avvenimento. sanno come si vestivano i contadini, come mangiavano, come vivevano i rapporti conflittuali con il padronato, ma i motti, per esempio, contadini del XVI secolo non li conoscono, perché non sanno neanche che cos'è il XVI secolo. storia marxista ha il grande merito di aver scoperto la storia umile, ma di aver dimenticato la collocazione cronologica e aver dimenticato anche i personaggi che hanno condotto certe cose. ogni storia è preziosa per alcuni, ogni storiografia è preziosa per alcuni aspetti ed è negativa per altri. Chi legge deve essere corazzato dalla sincerità dello storico. Matteo è sincero che dice, a me interessa la fede, quindi prendo i fatti, non tutti, e non tutti quelli che possono interessare un politico. Prendo quelli che mi servono per chiarire certi aspetti di fede che mi stanno a cuore. Lui lo dice, lo dirà in maniera ancora più esplicita il Vangelo di Giovanni. Il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, proprio gli ultimi due o tre versetti, in cui Giovanni dice tante altre cose si sarebbero potute scrivere, perché Gesù ne ha combinate molte di più. Queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi l'obiettivo è chiaro.